Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana il dispositivo dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure anti-Covid. In totale tra venerdì e domenica scorsi sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1.563 persone e 205 attività commerciali, 115 le sanzioni complessive, comprese quelle situazioni illecite tipicamente di interesse delle fiamme gialle, traspaccio, uso personale di sostanze stupefacenti e condrabbando di sigarette. Il potenziamento dei controlli ha riguardato soprattutto Napoli-Città a seguito anche delle decisioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Più in dettaglio il gruppo pronto impiego ha sanzionato in via Toledo cittadini sorpresi in un comune diverso di quello di residenza senza valido motivo, mentre nei quartieri San Lorenzo e San Giuseppe sono stati sanzionati cittadini in strada senza mascherina. Sempre in città, il secondo gruppo porto all'ingresso del barco Immacolatella ha sequestrato nella notte tra venerdì e sabato tre proiettili, uno spinello preconfezionato e 4.360 euro in contanti, denunciando un cittadino napoletano per detezione illegale di munizioni, oltre che sanzionandolo per violazioni anti-Covid. Lo stesso reparto durante tutto il fine settimana all'esterno dell'area portuale ha sorpreso in piena notte 36 persone provenienti dalle città della provincia, che erano state a Mergelina e in altre aree della Movida a trascorrere il fine settimana. Tutte sanzionate, due di esse erano recidive. Il gruppo di Nola, nel corso di un controllo al casello di Napoli Est, ha sequestrato 2,6 grammi di hashish e l'auto sulla quale viaggiava un cittadino rumeno risultava priva di copertura assicurativa. I successivi approfondimenti svolti con l'ausilio della sala operativa del comando provinciale hanno permesso poi di riscontrare che il soggetto doveva scontare due mesi di reclusione per resistenza pubblico ufficiale e furto aggravato sulla base di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica, presso la Corte d'Appello di Salerno. Il soggetto è stato tratto in arresto, oltre che sanzionato, assieme alla compagna, per violazione anti-covid poiché è residente a Monteforte Irpino, provincia di Avellino, e sorpresi nel comune di San Vitaliano senza un valido motivo.